San Vito Chietino San Vito Chietino è un comune italiano della provincia di Chieti in Abruzzo. Denominato originariamente solo San Vito, adottò nel 1863 l'aggiunta dell'aggettivo Chietino nel nome, riferito alla provincia di appartenenza. La cittadina è una delle principali stazioni balneari della costa dei Trabocchi. San Vito Chietino San Vito Chietino La chiesa di Santa Maria del Porto è situata nei pressi della Marina di San Vito. La chiesa di Santa Maria del Porto è una delle principali stazioni balneari della costa dei Trabocchi. La facciata in muratura di Laterizi presenta un pronao a tre arcate e tetto a spioventi che raggiunge tutta l'altezza dell'edificio. La facciata interna presenta analoga partizione in tre portali e tre finestre ad arco superiori. La chiesa ha un impianto a navata absidata e cappelle laterali. La navata è coperta con solai piani, inclinati e archi diaframma a profilo poligonale, mentre un solaio piano con vetro mattone copre lo spazio dell'abside. La copertura esterna è a doppie falde, inclinate e con manto in tegole portoghesi. La chiesa ha un impianto a navata. L'interno è decorato da parasteri battute con rivestimento e laterizi a vista, colonne in pietra, cornice e arco trionfale in pittura effetto marmo, vetrate policrome e storiate e pitture nelle cappelle nella curva absidale. La chiesa ha un impianto a navata. 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 Abbiamo un doppio di due campane fuse dalla fonderia Marinelli nel 1958. La chiesa ha un impianto a navata. 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti